Buonasera a tutti, bentornati. Amadeus Mozart, Vincent van Gogh, Albert Einstein, John Nash sono tutti famosi esempi di grandi talenti un po' folli. Questa sera ad Antropos parleremo proprio del ricorrente stretto legame che spesso esiste tra genio e follia, due condizioni mentali opposte che però spesso possono brillantemente convivere in persone un po' geniali e anche un po' strambe. Del cervello umano la ricerca sa tantissimo, qualche lato scuro esiste ancora. Nel discorso di questa puntata, di questo incontro direi che ce ne interessano in particolare due. Da un lato quella che è l'originalità, la bizzarria, la stravaganza, la non ossequenza, le regole che sono tratti estremamente frequenti nelle persone di genio, artistiche, scientifiche o altro. Anche nell'immaginario popolare c'è questa visione dell'artista. Che poi va al concetto dei maledetti, i modi. E di queste persone che poi hanno accresciuto la loro anche originalità estremberia con anche abitudini di vita molto particolari. I circoli che frequentavano fino ad arrivare all'assenzio, nei secoli passati, alle droghe attualmente. Quindi arriviamo a quei comportamenti anomali, pensiamo ai Rolling Stones versus i Beatles che erano un pochino più normale. E altre situazioni di questo tipo. Diverse se noi parliamo di malattia mentale o disturbo psichico, come più modestamente oggi diciamo, in senso stretto. Perché più modestamente? Perché noi individuiamo dei quadri fatti da sintomi, da comportamenti, da un certo andamento e da risposta alle terapie. Poi cerchiamo di metterci dietro una causa che è sempre biologico-ambientale. Concludendo un po' il discorso di prima, la malattia mentale in senso stretto, cioè quella fatta di queste... Difficilmente di per sé porta alla creatività e alla genialità. Quindi il legame non è tra la malattia e il talento. Può essere anche affetto da un disturbo psichiatrico importante, un genio. Vedi quelli citati prima, non tutti. Schumann, per esempio, sicuramente sì. Altri meno. Van Gogh sicuramente. Altri più bizzarri. Bizzarri, originali e poi anche con condotte di vita particolari. A proposito di personaggi famosi, volevo farle vedere questo breve filmato e poi farle qualche domanda. A me la gente non piace molto. E alla gente non piaccio molto io. Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone. Vedi John, quello che ti distingue davvero è che tu, molto semplicemente, hai il più grande talento nel decifrare codici che io abbia mai visto. Ecco, abbiamo riconosciuto tutti il famoso film che racconta la storia di John Nash, il matematico che è stato poi anche iperpremiato per studi molto importanti che oggettivamente però in quel caso forse, che tra l'altro è ancora vivente e forse lei ha conosciuto, professore. Quella fu una delle esperienze emotivamente più ricche della mia vita, anche se non avevo una frequentazione diretta con Nash. Era uno degli ultimi congressi dell'APA, dell'Associazione Psichiatrica Americana, e a John Nash venne dato il compito di fare la lettura magistrale all'inizio del congresso, che lui fece, ovviamente molto bene, e poi ricevette un applauso di un quarto d'ora almeno con tutte le migliaia di delegati psichiatri di tutto il mondo in piedi. sicuramente lui e lui stesso lo dite, lui iniziò dicendo sono un paziente schizofrenico che ha avuto l'avventura di vincere un premio Nobel e questa frase direi che è molto bella. Gli studi con cui vinse il premio Nobel probabilmente in gran parte precedevano gli esordi e poi lo sviluppo della malattia, che fu ben curata, anche curata dal grande amore della moglie, che qui si vede, che lì lo accompagnò in quella circostanza. Sicuramente lì sono coesistite una grave malattia mentale e una immensa generale. Chiudendo gli ospedali psichiatrici con un movimento che con degli estremismi ma fu molto importante e molto umanamente apprezzabile, allora il concetto passò a quello della salute, della cura della malattia, guarigione è sempre una parola grossa ma in tutta la medicina e quindi il concetto fu assolutamente ribaltato. Dopodiché a che punto siamo? Siamo a un punto che mi permetterei di dire così, la società ha perso pian piano un po' il senso estremamente problematico ed estremamente difficile di quell'operazione. Non è che basta mettere una persona nel mondo, una persona disturbata ed è tutto risolto. Occorre una partecipazione corale, al di là degli operatori che indubbiamente hanno la prima responsabilità, una partecipazione corale che è venuta un po' meno. Allora dove sono? Sono nelle loro famiglie, sono in comunità, in comunità per esempio il Piemonte è molto attrezzato, però voi pensate che solo i pazienti psichiatrici gravi, mettiamo assieme la schizofrenia col disturbo bipolare, raggiungono il 2,5-3% della popolazione. I servizi psichiatrici anche più impegnati, più validi, riescono ad avere in cura l'1,5-2% della popolazione e non sono tutti quelli più gravi. Quindi molto viene anche disperso, ma è francamente un'impresa difficilissima. Mentre nella schizofrenia c'è una serie di aspetti un po' poi disorganizzati, stravaganti, eccetera. Il disturbo delerante può essere veramente un pensiero, come probabilmente da questa paziente, focalizzato sul tema con tutto il resto della vita, della personalità, magari anche di lavoro, di efficienza, perfettamente a posto. Il trattamento sanitario obbligatorio, e qui torniamo alla diversità di concezione rispetto a una volta, è fatto per curare. Mentre il ricovero in ospedale psichiatrico antico era un provvedimento di pulizia giudiziaria, adesso è fatto per curare. Diventava una sorta di carcere? Sì, è fatto per curare. Ritorna al concetto di pericolosità, quella che si sente alla fine del paziente psichiatrico, dopo il fatto. Questo può avere dei problemi, può essere giusto o no, bisogna fare un'altra trasmissione. Questo è fatto per curare. Bene, siamo tornati all'ultima parte di Antropos che questa sera abbiamo dedicato al genio e alla follia. Professor Boggetto, riprendiamo da dove abbiamo fatto un breve cenno. Parliamo in maniera più approfondita delle cure terapeutiche e di come si può accedere a tutte le cure e ai servizi che sono a disposizione, perché credo che ci debba essere poi un riconoscimento della malattia. Come funziona? Allora, i disturbi psichiatrici possono contare oggi su cure efficaci, nei limiti che avevamo detto di tutte le cure, sia farmacologiche, che psicoterapeutiche, che psicoriabilitative. A questo proposito abbiamo due problemi fondamentali. Il primo è che il paziente, al di fuori dei casi acuti di TSO, anche ben detto prima, riconosca l'opportunità di farsi curare. E qui c'è una grossa resistenza. Basti pensare che spesso passano da 5 ad anche 15 anni, con in media 10 anni, prima che il paziente dall'inizio del disturbo vada a farsi curare. C'è uno stigma, in dubbio, sulla malattia mentale, sui servizi psichiatrici e compagnia bene. No, ma tu vai lì a farti vedere e quindi passa un tempo enorme. Il secondo aspetto è poi la costanza nelle cure. C'è anche per l'ipertensione, c'è anche per un sacco di altre malattie. Qui è particolarmente grave perché quando c'è una buona risposta alle cure, e ripeto c'è, almeno nel 50-60% dei casi, a volte mette a posto situazioni molto difficili, pensiamo al litio del disturbo bipolare, o ai nuovi antipsicotici della schizofrenia, o agli SSRI nel disturbo ossessivo compulsivo e così via, interromperli, crea una recidiva quasi sempre quasi immediata e poi l'efficacia quando si riparte è più problematica, bisogna spesso cambiare anche farmaco, eccetera, eccetera. Ottenere questa aderenza alle cure è l'altro grande problema. Le figlie hanno una sorta di aiuto, vengono seguite in qualche modo per non rischiare di cadere in barnauto, comunque insomma di avere dei riflessi di queste patologie. Anche qua la risposta non può che essere abbastanza modesta. Per quel che si può, sì, sicuramente si può molto meno di ciò che sarebbe opportuno e necessario fare. Certo che per una famiglia il figlio malato di mente, oppure adesso tossicodipendente, che poi spesso le due cose anche possono imbricarsi, rappresenta un peso enorme. Noi vediamo famiglie eroiche, spesso. E qua mi piace di poter dire questa parola di ammirazione verso famiglie che danno tutto loro stessi per questa situazione, che non è neanche poi neanche favorevole, né giusto, tra virgolette, per certi versi. Sicuramente che l'amore, l'attenzione, la presenza di una famiglia costituisce un vantaggio per tutta la vita. Diverso è poi una famiglia troppo soffocante, eccetera, eccetera, perché allora può essere anche un problema quello. Ma la decolpevolizzazione delle famiglie, in senso lato, come causa delle malattie mentali, perché si è arrivato anche a dire quello, perché le malattie mentali sono un campo aperto a qualsiasi bizzarria interpretativa, visto che parliamo di interpretazioni. E quindi a quel punto si unisce anche il senso di colpa, il problema che bisogna gestire. Altro che. Senti, in quale percentuale le famiglie invece rifiutano la malattia? E come la persona che può essere interessata tendono a non volerla riconoscere? Mi sarebbe difficile dare una percentuale esatta, sicuramente è un moto istintivo, no? È più bello dire, mio figlio o mia figlia sono bizzarri, sono originali, no? È un po' come quando i ragazzini vanno male a scuola e i genitori dicono perché è troppo intelligente, si stufa. Magari non è sempre così. Non è sempre così. Senti, nel caso delle famiglie, una terapia psicoanalitica di sostegno? I familiari che seguono il paziente? Beh, adesso lì io sono un po' minimalista. Tutto può essere utile, ma bisogna osservare, non solo perché non c'è la possibilità pubblica per dar tutto, ma anche privatamente, anche per chi può fare il giusto intervento. Il giusto intervento non è mai, come in tante altre cose della vita, né poco, ma neanche troppo. Genio e follia. Nella puntata di oggi Antropos ha cercato di fare un po' il punto tra quelli che sono i comportamenti bizzarri, un po' particolari, un po' estrosi e quelli che sono dei veri e propri disturbi psichiatrici fino alla cosiddetta definizione di follia, di pazzia. Oggi noi sappiamo che il trattamento sanitario obbligatorio è una forma di terapia che ha anche delle valenze di tipo preventivo per cercare di curare pazienti affetti da disturbi bipolari, da pazienti schizofrenici, quindi da quei pazienti che hanno dei comportamenti che rasentano e sono decisamente patologia, che richiedono quindi un trattamento medico, specialistico, un riconoscimento ed anche dei farmaci, delle analisi, degli accertamenti opportuni. Di questo oggi abbiamo discusso con il professore Boggetto che ci ha anche dato degli importanti informazioni su quello che è il ruolo della famiglia e quelli che possono essere questi eroi che affiancano queste persone affette da questi disturbi, persone che devono fare del loro volontariato uno strumento anche di assistenza continua a persone che presentano questi disturbi patologici. Voglio naturalmente ricordare ancora una volta la mail della nostra trasmissione che è antropos-quartarete.tv e vi prego di continuare a mandare le mail, a scriverci per richiedere degli argomenti o anche degli approfondimenti sui temi che vengono trattati settimana per settimana. Ricordo inoltre che la nostra trasmissione può essere seguita anche in streaming su www.quartarete.tv tutti i giovedì, sabato e domenica 22.30, 23.15. Passiamo adesso ad una serie di notizie che ho cercato appunto di raccogliere dalla stampa e vorrei prima di tutto sottolineare con voi questo argomento che riguarda i falsi miti della psicologia. Vediamo infatti che contro i falsi miti della psicologia vi sono 50 e più luoghi comuni sul nostro cervello che sono stati smontati dalla scienza. Dice Karl Popper la ricerca deve partire dalla critica dei miti e quindi vi sono un po' troppe affermazioni che devono essere però poi dimostrate e che la scienza smonta. ancora una delle grandi grandi incertezze delle grandi aspetti della terapia è il cosiddetto effetto placebo cioè quell'effetto che permette anche con la somministrazione di acqua di avere un risultato terapeutico a volte sovrapponibile o addirittura migliore di quello di un farmaco ed è quanto emerge in questo articolo che noi riprendiamo dove il 46% dei medici è favorevole all'uso del placebo e dove appunto si evince come nel cervello è stata dimostrata la presenza di questa sostanza che libera e controlla il dolore e l'infiammazione. Grazie a tutti